musica 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 13 kill ragazzi attenzione attenzione siamo arrivati ragazzi siamo arrivati ragazzi attenzione 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 che andiamo attenzione 90 ragazzi mancano 9 chili in questo momento e dovremo prendere i punti esperienza necessari per arrivare a livello 100 voglio ringraziare tutti i miei ragazzi tutti quelli che sono rimasti a guardare le live tutti quelli che mi sostengono ogni giorno ragazzi su questo canale oramai completamente dedicato a forte completamente dedicato completamente dedicato a fortnite 98 io me la ballo e me la suono non lo fare non lo fare non lo fare la partita è chiusa la partita è chiusa ragazzi attenzione le mani al cielo attenzione ragazzi attenzione andiamo a vedere che cosa succede complimenti a tutti complimenti a tutti grazie a tutti torno ai lobby vediamo cosa succede non siamo al 100 puttana la maiala mancano 110 punti esperienza aspetta ma porca troia ma dai vediamo 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 ragazzi vediamo se ci siamo dovrebbero avermi i dati in realtà non lo so torniamo alla lobby potrebbe essere livello 100 il hype è grande dai dai sappiamo tutti che morirò adesso e non arriverò ancora al 100 no 30 punti me li da 30 punti 2136 oddio ce la faccio ce la faccio c'è gente? ragazzi io direi che ci siamo quindi quindi direi che questa è sufficiente mettiamoci in un punto visibile potete abbassare un attimo il volume del gioco per il discorso ragazzi con questo background musicale io dico che finalmente ce l'abbiamo fatta ad arrivare a livello 100 speriamo che il tipo mi kill dai killami tizio voglio ringraziarvi voglio ringraziarvi a tutti ragazzi per essere rimasti e per avere sostenuto il canale anche in questa season non ce l'ho mai fatta a fare il 100 ma adesso il momento è giunto incrociamo le dita speriamo di arrivare di prendere le cose che ci servivano torniamo in lobby ancora un grazie a tutti voi ragazzi per crederci ogni giorno attenzione ed è livello 100 ed è livello 100 ed è livello 100 ci sono delle cose ci sono delle cose attenzione cosa numero uno cosa numero uno cosa numero uno vediamo vediamo piano 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 abbiamo lo spray del livello 100 abbiamo lo spray e abbiamo anche sgodinx le motte del livello 100 raga e poi non è finita dovrebbe esserci lo standardino dovrebbe esserci lo standardino attenzione battaglia reale e ce l'abbiamo ragazzi e ce l'abbiamo e lo possiamo mettere lo standardo del livello 100 preso finalmente aaaaaaah standardo per la prossima season io tengo di solito gli standardi viola ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta ragazzi bandiera in alto grandi tutti grandi tutti la mia lobby la metto pubblica e chi ha voglia di giocare ce ne andiamo dentro a giocare a giocare